La cosa che mi è veramente dispiaciuta di più è stato che sono stata cacciata e il mio colloquio è finito senza nemmeno una domanda riguardo alla mia storia lavorativa, cioè quello che so fare, quali sono i miei studi e quali sono le mie aspettative lavorative. Eppure Paola Filippini di cose ne sa fare, 28 anni, fotografa freelance di professione ma con modeste entrate, tre lingue parlate e scritte correntemente, diverse esperienze come hostess per cecchini in alloggi turistici, quello per cui ha studiato e quello che l'ha spinta a inviare il suo curriculum all'agenzia di mestre che l'ha convocata e poi cacciata, semplicemente perché non voleva rispondere a domande relative alla sua vita privata. Se è sposata e se ha figli, perché ha commentato l'imprenditore, questo determina la sua disponibilità lavorativa. Io credo di aver semplicemente esercitato un diritto che io ho e che tutti hanno, che è quello di non fornire informazioni private rispetto alla sfera familiare e alla sfera personale. Paola aveva risposto a un'inserzione per incrementare le magre entrate della sua professione che l'ha portata anche in Cambogia e in Nepal per raccontare volti e storie con il suo obiettivo. Ha dato sfogo alla delusione sulla sua pagina Facebook che è diventata subito virale, raccogliendo tante storie analoghe che si intrecciano con la sua. Si emoziona quando le ricordiamo che proprio negli stessi giorni Papa Francesco è intervenuto a difesa delle donne incinte, troppo spesso discriminate sul lavoro. Sinceramente mi auguro davvero che lui non abbia letto il mio post di Facebook perché era veramente pieno di parolacce e me ne vergogno. Però sì, questo Papa ha tirato fuori delle argomentazioni toste e quindi mi fa piacere che abbia parlato anche di questo. Quindi chissà, magari le due cose, la mia piccola storia e la sua parola magari insieme, questa cosa si potrebbe diffondere e magari far arrivare il messaggio reale.